Ciao a tutti, ringrazio le persone che si sono nuovamente prodigate a guardare i miei video che mi seguivano già dall'inizio e ringrazio anche i miei haters perché comunque per insultarmi andate comunque a commentare i miei video e perdete del tempo, quindi vi ringrazio perché comunque mi dedicate del tempo. Detto ciò passiamo alla ciccia, alla parte del video di oggi ovvero la recensione di un film, un film piuttosto vecchio ma molto attuale nonostante il film parli di una dinamica che era molto attuale in quell'epoca adesso diciamo che nel 2024 è peggiorato tutto rispetto a come era prima e quindi la dinamica è tornata molto molto attuale infatti si parla della perdita di una casa e del, diciamo, tutto il cavillo per arrivare ad avere una casa popolare il film si intitola Una casa del cuore ed è il 2014 e ha come protagonista Cristiana Capotondi nel ruolo di Anna io adoro la Capotondi, ogni film che ha fatto mi piace molto lei devo dire che è molto 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 semplice come ragazza mi è sempre piaciuta anche nei film spazzatura quando ha fatto anche qualche film spazzatura lei mi è sempre piaciuta è una ragazza che mi piace, è un'attrice che mi piace detto ciò appunto la tematica di questo film è una tematica molto cruda parla appunto del vivere in strada dell'assenza di possibilità di avere una casa della battaglia per arrivare ad avere le case popolari dell'occupazione delle case di tutta questa tematica qua ma andiamo a parlare della story non farò spoiler perché il film è su Prime quindi lo potete recuperare e secondo me dovreste farlo perché magari non me ne frega niente della mia opinione però la tematica è molto importante secondo me vale la pena perché è un film ben fatto è piaciuto persino al mio ragazzo che lui non è che piaccia tantissimo film quindi direi che possiamo pensarci a vedercelo allora il film racconta la storia di Anna che ha un marito pressoché assente ma molto ricco che gli dà tutto quello che vuole e compensa appunto questa assenza regalandogli tutto quello che vuole ma è anche un marito un po' che la controlla vediamo che addirittura gli controlla il modo in cui deve tenere i capelli cioè io gli avrei detto ma stai messo proprio male c'è io i capelli me li faccio come voglio ma come stai preso però gli controlla tutto e Anna sembra accettare questa cosa dall'unione della coppia è nata Aurora la figlia di Anna che ha ormai 8-9 anni non si capisce bene più o meno l'età del genere Anna vive in questa vita di lussi lei non lavora e dipende totalmente dal marito per questo è disprezzata dai genitori di lui che credono che abbia rovinato la vita del figlio ma non è proprio così cioè secondo me è il contrario ma chi vedrà il film poi lo capirà insomma la vita scorre felice finché un giorno Anna si sveglia e non trova più il marito non trova più il marito a casa è disperata e pian piano si trova alla deriva e a dover trovarsi fuori casa si trova fuori casa perché scopre che il marito non ha pagato l'affitto per mesi quindi lei e la bambina vengono sfrattate e lei si trova senza casa e decide di andare in una piccola pensione con i soldi che le rimangono perché i nonni, i genitori del marito che non gli dicono dove è il marito quindi neanche questi neanche glielo dicono lo dicono di non saperlo ma secondo me non glielo vogliono dire e dopodiché prenderebbero solo la bambina e non lei e la bambina vuole stare con la madre giustamente cioè avendo una famiglia del genere dal lato del padre ci credo che vuole stare con la madre quindi le due vanno in una pensione dalla quale poi vengono cacciate passano una notte in macchina vengono derubate insomma un incubo questa bambina poi dal tonno ne va in una scuola privata io mi sono chiesta ma perché non l'hai cambiata di scuola cioè già dover pagare la scuola privata non doverla pagare sarebbe già un inizio insomma però vabbè eventualmente non voleva troppo sbatacchiare la vita della figlia che era già stata completamente rivoluzionata alla fine grazie all'aiuto di un ragazzo che lavora in un caff interpretato da Simone Montedoro se non erro che faceva anche Don Matteo faceva il comandante in una stagione una delle tante stagioni di Don Matteo praticamente riescono a trovare una sistemazione e questa sistemazione è una casa galleggiante sul Tevere dove vivono altre persone che purtroppo non hanno casa e questa è la storia principale e poi tutto il resto se lo volete scoprire vi guardate il film che dire la tematica è sicuramente molto importante la Capotondi è stata molto brava il film proprio ti fa avere quasi un senso d'ansia un senso di costrizione perché pensi che chiunque può finire in quella situazione prima o poi di non avere una casa di non sapere dove andare però ti dà anche un senso di conforto perché tu vedi l'umanità che c'è tra tutte le persone che sono appunto senza una casa che si aiutano a vicenda che non hanno niente ma danno quel niente quindi secondo me questa è una cosa veramente bellissima io mi sono commossa con il film anche il mio ragazzo si è un po' commosso perché comunque è una storia che ti tocca da vicino soprattutto per chi non naviga comunque nell'oro lei diciamo la protagonista del film è la Capotondi Anna navigava nell'oro lei non aveva mai dovuto pensare a non potersi permettere il parrucchiere non aveva mai dovuto farsi sacrifici economici e all'improvviso si trova senza avere niente però nonostante tutto trova la forza e va avanti la trova per la figlia Aurora perché altrimenti lei lo dice anche a un certo punto del film se non ci fosse stata Aurora ciao ne perché non avrei trovato la forza quindi è proprio come avere che ne so un VIP che è sempre vissuto nel lusso e che si trova a dover vivere per strada ci va una forza in più perché non sei abituato a fare i sacrifici come lo sono le persone nella quotidianità io e il mio ragazzo ad esempio non ci permettiamo molte cose perché con uno stipendio dobbiamo arrivare a fine mese e infatti la nostra casa non è un granché abbiamo preso una casa a poco proprio perché noi volevamo stare insieme ci interessava quello è ovvio che quando tu sei abituato a una vita di sacrificio e poi ti trovi senza nulla comunque è difficile lo stesso perché comunque è difficile per ogni persona trovarsi senza niente però ovviamente per una persona come nel caso della nostra protagonista che aveva tutto trovarsi senza niente in più con una figlia di nove anni che dipende totalmente da te non è facile non è facile la Capotondi è stata brava tutti gli attori di questo film sono stati bravi alcuni mi erano sconosciuti sono tutti attori italiani penso proprio di sì non ci sono attori stranieri e quindi non abbiamo collaborazioni con l'America o con altri paesi sono un cast è tutta l'italiana perché penso che sia un film fatto dalla Rai se non erro e devo dire che questa volta ci ha preso in pieno e ci ha preso in pieno e abbiamo dimostrato che anche in Italia senza avere gli attori gli attoroni di Hollywood sappiamo fare qualcosa ogni tanto e secondo me è stato un film molto bello perché molto sentito ripeto più hai cose e più la vedi difficile no? non ti riesce a medesimare meno ne hai e più ti riesce a medesimare e soprattutto arrivi a pensare grazie al cielo io un tetto sopra la testa ce l'ho no? perché poi quando arrivano a abitare su questa casa galleggiante che tu le vedi le pantegane che ti tolgo vabbè che noi abbiamo i piccioni nel cortile che sono più o meno la stessa cosa però però vedi queste pantegane poi il freddo senza riscaldamento poi alla merce del fiume il fiume fa quello che vuole quindi se viene una piena quindi una vita pericolosa rischiosa però delle persone con un'umanità fantastica che si aiutano a vicenda è qualcosa di di fantastico è qualcosa di di meraviglioso davvero la storia di questo film ti riempie proprio il cuore per questo io lo consiglio a tutti lo trovate su Prime se non erro ed è un film che fa riflettere secondo me l'importante è riflettere rifletti su quanto è stronzo il marito come si comporta su lei ma rifletti sul fatto che ci sono anche delle persone che sono buone e che sono sempre pronte ad aiutare gli altri la recensione è finita noi ci vediamo al prossimo video ringrazio sempre la mia amica Stefania che io adoro per la parte di editing e se vi piace questo video mettete un like se non vi piace mettete il dislike onestamente chi se ne frega chi se ne importa come potrete vedere poi da questo film le priorità della vita sono altre se vi piacciono i canali beceri andate nei canali beceri che vi devo dire detto ciò al prossimo video ciao ciao